Dare dignità a tutti gli animali, nessuno escluso, educando al loro rispetto anche le nuove generazioni. E' l'intento della mostra Gli Indesiderabili, visibile fino al 17 dicembre all'ufficio in relazioni con il pubblico del Consiglio regionale. Organizzata dalla LAV, Leganti Vivi Sezione, l'esposizione si compone di pannelli e disegni che raccontano le peculiarità di alcuni animali, quali la nutria e la cornacchia, il colombo, lo scoiattolo grigio, la volpe, il cinghiale e il pesce siluro. I protagonisti sono gli indesiderabili, che è proprio il titolo della mostra. Questi animali sono coloro che alcuni vorrebbero che non rimanessero più nel nostro territorio. Dal nostro punto di vista sono animali che arricchiscono il nostro mondo, la nostra regione, la nostra terra e crediamo che abbiano diritto di rimanerci così come tutti noi. Crediamo anche che molto spesso quello che avviene è che chi li vuole eliminare molto spesso nasconda evidenti interessi economici.